La notte dell'alluvione ad Arezzo proviamo a percorrere la strada regionale 71 direzione proprio Arezzo e vediamo se riusciamo a passare, vediamo i soccorsi e le squadre che stanno operando in questa situazione estremamente critica. Nella notte dell'alluvione siamo a Olmo di Arezzo, torrenti in piena, alberi divelti e continua a piovere in azione mezzi per ripulire la strada, sempre lungo la regionale 71, questo è un fiume che sta scendendo, siamo dietro alla colonna mobile del soccorso acquatico dei vigili del fuoco, è poco qua davanti a noi, è proprio davanti a noi. Strada praticamente quasi impraticabile, ancora la regionale 71. ecco la squadra dei vigili del fuoco, soccorso acquatico con tanto di gommone, un vento all'altezza di fontiano ecco altre squadre al lavoro. ecco la squadra dei vigili del fuoco, soccorso acquatico con tanto di gommone, un vento all'altezza